Guarda la ricordia, è una cittura bastarda, perché non so le esse! Vai! Vai, vai! Vai! e chi è? no così no qui dove si ferma cifone qua è dove si ferma cifone eh ma che cifone è andato su benissimo occhio al burrone qua eh sbagliato sbagliato no Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.